Sono il Mirko! Pepe! Sono il Mirko! Sì, sei il Mirko! Pepe! 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 Sei sei! Pepe! 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 Poi è il nostro seguitore! Pepe! 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 Te la ricordi? Si! Sì! Faglio 7! Ah, guarda! Piun bella che Roma! Tutta la vita me la ricordano! Era un bello spirito! Era meraviglioso! Guarda, il discorso è questo! Non stavi neanche attento al portafoglio! Se noi non andiamo su, non ce ne andiamo a casa! Noi dobbiamo vincere, governare questo paese, se no ce ne togliamo a casa! Sì! Allora, guarda! Guarda, guarda! 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 Guarda, guarda! P很 živoso! Il nostro garzitato, il burdi pro peso montano. Quanti avvitati ha? 141! Il 2-2-2-2-2-3-3. Grazie a tutti. Grazie a tutti.